Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Decreto 92 e bentornati sul mio canale siamo ancora qui su Devil May Cry e siamo alla missione numero 9 avevamo accompagnato il nostro vecchietto a riprendere l'occhio ora lui col suo occhio ci accompagna alla torre e andiamo a vedere la missione numero 9 dal titolo del diavolo in me da quanto tempo sei cieco e imprigionato qui dentro? centinaia di anni ma lo conosci in questo posto? come il palmo della mia mano sei matto? come uguale, te lo ricordi dimenticavo, io e te vediamo le cose diversamente vedere le cose diversamente apre nuove strade che intendi dire? tu vedi solo il male in me perché sono un demone apri la tua mente è solo una questione di prospettiva cazzo sto come ho detto vedo le cose in modo diverso ci incontreremo più avanti ma dov'hai? cosa da mostrarti? tutta merda va bene qua, dove vorrei la democrazia che inutile lo faccia oh mamma mia cazzo c'è un animo qua cazzo dico dove ho da sto muro eccola ciao bella arriva 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 a salvarti ciao 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 andiamo questa scorpacciata di energia eccolo qua ah bello l'uomo scimmia il suo nome il suo nome era assiel era un'antica creatura nefilim come te ce ne sono altri i nefilim erano la terza razza purtroppo sono stati perseguitati e distrutti perché adoperavano il potere sia degli angeli che dei demoni ma i nefilim avevano anche l'abilità di attraversare i mondi erano formidabili sogli ha rese una minaccia come me e come te avevano un grande potenziale che spreco vuoi raggiungere tutto il tuo potenziale forse assiela la chiave ok è stato un piacere io vado ragazzi tutto vecchietto vai vai mamma mia perfetto ebbela e andiamo sono bravi che cazzo assiela che mo' di cazzo che me la batto questa una striga rimane a dio no è un fottutissimo demon meraviglia cazzo una parcia buona no 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 capito io devo rompere la pella di maca vieni qua no 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 si vabbè ma è immortale ragazzi non è possibile che liberazione e ce la liberiamo no 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 che cazzo sta succedendo una stanza che si muove bene assiela la chiave no non vuoi uccidere i ragneti no non vuoi portare via i ragneti roppela roppela no no per favore venite qua voglio morire roppela roppela chi ha povolto non non c'è niente lino casa curato tutto quanto roma ma io devo andare in giro aaaah presa entriamo tu non sei bubbsette dei aria eccolo vediamo un po cosa imparerò quest'oggi che è l'ultima raga l'ultima catena mi sa capiremo finalmente cosa c'è dietro a quella storia vediamo che succede vediamo un po cosa succede ragazzi cazzo che ha finito ora questa catena no la mia catena che abbiamo posto di racco lo conosce ancora eeeh gira di tutto oh cazzo che vado in età no ragazzi ma che minchia è dante sei qui perché non sono stata in grado di proteggerti mi dispiace immensamente tuo padre si innamorò di me era un amore che trasgrediva rigidi e antichi limiti scegliamo la nostra strada a dispetto della certezza dell'amichilmento non ci siamo mai pentiti delle nostre scelte ma non abbiamo permesso a te di farla figlio mio ora finalmente potrai scegliere avrai un grande potere ok un potere che ti consentirà di costruire la tua strada ok questa figlio mio è la libertà si coraggioso figlio mio ti voglio bene pure io mamma noi abbiamo sblocato il devil trigger l3 r3 allora una manifestazione del vero potere di Dante proviamo allora di motosega attaccare amici viene più indicatore del devil trigger sblocando indicatore è tra il di sopra del valore minimo Dante può attivare il ok oh l'ho schiacciato ragazzi l'ho schiacciato l'ho schiacciato che cazzo è goblin porca miseria quanto è imbruttito ragazzi che cazzo è un'altra cosa è un'altra cosa ma sapete se c'è che abbiamo fatto che c'è la canna è un'altra cosa come ad esempio poi èありがとう ti do to ho capito il problema io credo mi piace mi piace sai voglio ora Mi pi gusta, mi gusta Oh bella fratello Modifica un po' la strada qua Oh bene, la torre Vado Grazie, grazie, grazie Ok, si lotta qui ragazzi Porca puttana Avrei il momento di lottare Aia Non sai che ti dico Non sai che ti dico Mezza di merda Questa è stata Vieni qua Mamma mia Power, power, power Let's go Let's go Dovete fare gli ultimi Capito brutto pezzo di merda Vieni qua Mamma mia ragazzi Sempre più frumentale in questo gioco Oppure le mesce bianche ora Cioè, sono finiti Diciamo No Opa Andiamo a potenziare qualcosa Ho due potenziamenti possibili E io Fra un po' Mi manca 5.000 ragazzi Perfetto Vai Qua io lo penso tutti al massimo Sti cavoli Vai Andiamo 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 che non c'è Tempo da perdere Via Versione Spider-Man Let's go Non si lotta No Ormai ho tutti paura Grande Qua si lotta ragazzi Aia Arpia caduta Moltci Un po' 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 Mamma mia, adesso, si, adesso, stieni qua, si è cool, si è cool Mamma mia, adesso li fa fuori due alla volta tutto, due alla volta, non è un problema, vieni qua, guarda, vieni qua, vieni qua, vieni qua, mamma mia, li faccio fuori tutti Ahia, questa è un mal problema Non la mollare, non la mollare, non la mollare Non la mollare Ti vieni qua, ti vieni raggiù, ti vieni raggiù, ti faccio fuori A posto Ce l'abbiamo la chiave? Non ce l'abbiamo la chiave, non ce l'abbiamo la chiave, non ce l'abbiamo la chiave, andiamo avanti Andiamo avanti allora Opera Opera C'è successo? E' stato forte Ma c'è la chiave da lui Vieni qui Che c'è? Hai trovato il tuo demone interiore, ma devi ancora scoprire tutto il tuo potenziale Voglio solo uccidere un re dei demoni di nome Mundus E se uccidi Mundus, chi prenderà il suo posto? Aia Bella domanda ragazzi E si chiude il capitolo con questa domanda Se Mundus more, chi ci si mette al potere? Ragazzi, qua da Ulele è tutto quanto Spero vi sia piaciuto, condividete, mettete like Ci vediamo alla prossima Ciao belli Ciao 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 Ciao